Buonasera a tutti, come segretario nazionale di Federpharma vi parlerò di un sistema che è quello della farmacia italiana delle 19.300 farmacie presenti sul territorio nazionale nelle quali ogni giorno entrano 4 milioni e mezzo di pazienti e che sono pazienti che trovano una farmacia aperta a tutte le latitudini. L'Italia è un paese stretto e lungo, la farmacia è presente ovunque, la farmacia italiana non è quella delle grandi città la farmacia che voi trovate nei grandi centri abitati. La farmacia italiana è una farmacia vicina al cittadino perché è presente in tutte quelle aree, in tutti quei distretti, anche lontani centinaia di chilometri dai centri più grandi nei centri rurali, in centri dove ci sono 450 abitanti che nella maggior parte dei casi sono persone anziane dove il cittadino trova al suo fianco un professionista del farmaco, molto spesso un amico, molto spesso un confidente, qualcuno che può essere vicino in un luogo nel quale la presenza delle istituzioni è venuta meno non c'è più la stazione dei carabinieri, non c'è più la bianca, non c'è più l'ufficio postale, non c'è più neanche il parroco la crisi delle vocazioni ha portato anche a questo, ma c'è la farmacia, c'è una farmacia vicina a voi vicina alle persone più fragili, vicina al cittadino che ha bisogno di un punto di riferimento nel mondo della salute che la farmacia italiana vuole continuare ad essere, una porta d'ingresso nel sistema sanitario nazionale al quale dobbiamo dire grazie perché il nostro sistema sanitario nazionale sicuramente se non il primo o il secondo al mondo un sistema universale e universalistico che dà la possibilità a tutti di curarsi, a tutti di accedere a un pronto soccorso a tutti di ricevere un farmaco in farmacia, di curarsi con terapie sicuramente efficaci e la farmacia vuole essere davvero il punto d'ingresso del cittadino nel mondo della salute lo vuole fare attraverso nuovi strumenti, attraverso una trasformazione e una modernizzazione del ruolo del farmacista in farmacia, lo ha già cominciato a fare attraverso la farmacia dei servizi la farmacia dei servizi la cui sperimentazione partirà nel 2020 finanziata dalla legge dello Stato che permetterà al cittadino di trovare in farmacia dei servizi nuovi le autoanalisi piuttosto che la telemedicina, sarà possibile effettuare nelle nostre farmacie un elettrocardiogramma attraverso la refertazione a distanza, un alter cardiaco, un alter pressorio tutte attività che sono sicuramente importanti soprattutto per tutti coloro che hanno superato i 60 anni e questo è un ruolo nuovo, un ruolo che vuole essere al fianco del paziente una funzione nuova che non va soltanto in questo senso ma che vuole dare al cittadino la possibilità di ottenere notizie importanti dal farmacista in termini di prevenzione, in termini di screening la farmacia è un posto nel quale il cittadino viene accolto e può effettuare una serie di autoanalisi l'abbiamo fatto proprio per evidenziare attraverso una campagna che abbiamo chiamato di Adei negli scorsi due anni una misurazione gratuita della glicemia nelle 19.300 farmacie del territorio nazionale. I dati che sono venuti fuori da questa rilevazione sono impressionanti in solo due settimane sono stati scrinati 365.000 pazienti e 4.000 pazienti non sapevano di essere diabetici, da qualcosa ci preoccupa ma ci dà la forza di affermare che anche attraverso la farmacia in collaborazione con il medico di medicina generale, con il sistema tutto si può fare prevenzione, la si può fare in maniera importante e quest'anno abbiamo deciso di dedicare l'edizione del 2019 del dia dei all'aderenza alla terapia. Non abbiamo effettuato la misurazione ma abbiamo seguito e abbiamo verificato attraverso una serie di interviste il grado di aderenza del paziente diabetico alla terapia. Io da due anni mi occupo sicuramente a tempo pieno di politica sindacale ma ricordo che sino a qualche anno fa quando stavo dietro il banco della farmacia più assolutamente mi trovavo a confrontarmi con una serie di pazienti che con le iniziative più estrose e più particolari decidevano di sospendere la terapia, c'era uno che mi ricordo limava la pillola per l'ipertensione perché in questa maniera pensava di poter ridurre in maniera progressiva la sua terapia stessa. Quindi è importante, è fondamentale che il paziente, il paziente anziano si rivolga al farmacista con fiducia perché proprio nella farmacia può trovare davvero una porta aperta sul mondo della salute, un amico, un professionista, un professionista del farmaco che può dargli supporto in questo senso. È un'attività importante che svolgiamo anche in ambito degli screening oltre a quello del diabete, gli screening sul coloretto e tante altre iniziative che vogliamo portare avanti in quell'abito della farmacia di servizi che è stata ideata proprio a supporto della cronicità, proprio a supporto dei pazienti più fragili. Ed è un progetto che chiaramente mira a integrare la farmacia, qualora bene fosse ancora più bisogno, nell'ambito del sistema sanitario nazionale in un'ottica di risparmio per il sistema sanitario nazionale, per quello che la farmacia può fare ma soprattutto in un'ottica di miglioramento dello stato di salute dei cittadini. I risparmi che possono essere ottenuti sono enormi, ho ricordato prima la dottoressa Marletta il costo di un ricovero giornaliero in ospedale va dagli 800 ai 1000 euro. Ecco da un recente studio condotto dall'ex direttore generale dell'AIFA, il dottor Nello Martini, su cinque patologie croniche è venuto fuori un dato impressionante, un dato che ci dà la misura di quanto il ruolo del farmacista può essere importante anche dal punto di vista del risparmio. Recovery evitabili per 1 milione e 200 mila cittadini in un anno e risparmi di oltre 3,7 miliardi di euro, questo attraverso l'aderenza alla terapia, attraverso la prevenzione, attraverso le campagne di screening, attraverso l'attività che il farmacista al vostro fianco vuole continuare a svolgere.